La riapertura del traforo del Pino ha determinato un crescente traffico di veicoli pesanti che attraversano la città. Centinaia di tir, per lo più provenienti dai siti logistici est di Torino, per evitare la tangenziale, attraversano tir. La nostra viabilità ne soffre e l'inquinamento atmosferico ed acustico è ormai insopportabile soprattutto per chi vive lungo questi assi stradali. Ci aspettiamo efficaci decisioni dell'amministrazione per bloccare questo traffico pesante di transito, come hanno già fatto alcuni comuni. Cooperare con città metropolitane a Regione Piemonte per fornire a questo traffico ed al Chierese una valida alternativa ad est della città per il rapido collegamento tra gli svincoli della tangenziale e autostradali di Santena e di Settimo Grandizzo.